Una giornata speciale, una giornata in cui abbiamo avuto migliaia di persone che hanno partecipato è una delle giornate speciali a cui ormai ci siamo abituati ci siamo abituati a partecipare per scegliere e avere la libertà di scegliere la libertà di scegliere una lista da proporre per il proprio comune la libertà di scegliere i consiglieri regionali per la propria regione la libertà di scegliere un candidato della presidenza della regione Senti, un po' di commozione c'è perché vedere questi signori, questi ragazzi, trasformarsi in sillaci, consiglieri, consiglieri regionali, parlare di politica e mi viene in mente com'è nata tutta sta storia qua per caso, io non digerivo, non dormivo quindi sono anziano, quindi mi aggiravo di notte come una prostituta senza marciapiede e quindi pensavo, ancora la mia testa ha un turmine di frammenti, di pensieri e dicevo come possiamo fare, questo movimento nasce perché io un giorno mi sono iscritto al PD non ve l'ho mai detto, un giorno perché facevamo le battaglie del 5 stelle, l'acqua pubblica il wifi libero e gratuito, la mobilità, i rifiuti, le energie rinnovabili poi i miei spettacoli portavo un po' di novità, non c'era ancora la rete quindi c'erano questi temi, questa visione, questa visione che io avevo in questi frammenti di pensiero e io dicevo ma come mai una sinistra non si occupa di acqua puro, di nascita, le rinnovabili io avevo la casa da vent'anni con il pannello e qui i miei figli sono velocissimi fino ad apprendere tutte queste cose qua quindi abbiamo fatto uno studio su come sarà il mondo nel 2015, nel 2025 scusate il lavoro, ma il 40% dei lavori conosciuti non ci saranno più tutte le intermediazioni saranno finite, lavori di intermediazione ci saranno lavori di creatività il mondo è la giusta moderna però ci parliamo gli occhiali datemi un paio di occhiali qualsiasi allora sono arrivata la votazione sapete che la votazione cosa c'è ragazzi? ma quale libertà? guarda che è un casino arrivano gli occhiali però proprio questi perfetti allora la libertà è un casino la libertà ce ne sono tante tante libertà c'è gente che non vuole non vuole essere dunque i candidati allora sono stati eletti allora inizierà la conta hanno partecipato alla votazione per il candidato presidente 4.350 iscritti certificati il candidato alla presidenza della regione siciliana per il momento 5 stelle sarà e qui faccio un po' come i presentatori televisivi allora Giancarlo Cancelliera Buon anno Buon anno Adesso Buon anno